Grazie, ma quando abbiamo concordato con Maurizio Cannone, che ringrazio per l'invito anche a questa edizione di Reitaly, il titolo di questo intervento nell'ambito del macro tema inflazione, io avevo pensato di dire qualcosa e la dirò fra pochi minuti, in particolare sulle locazioni commerciali, cosiddette locazioni non abitative, che hanno bisogno ormai da tempo di una riforma, però poi naturalmente le vicende degli ultimi giorni, ma anche la stessa relazione che ho ascoltato con molto interesse di Luca Dondi, portano ad altre idee, ad altre cose da voler dire. E quindi per esempio due considerazioni sui dati che stanno uscendo e che sono davvero molto preoccupanti. La stessa Nomis, ma anche tempo fa, due giorni fa il Consiglio nazionale notariato, sia in termini di dati esistenti, cose avvenute, in particolare il crollo dei contratti di mutuo, sia in termini di previsioni per il futuro, mi sembra meno 19% come acquisto di prime case, sono numeri che non ci sconvolgono perché forse ce li dovevamo aspettare, ma che ci devono far riflettere. Perché in effetti le politiche, ieri lo denunciava anche l'ABI, aggiungo ai dati anche quelli dell'ABI, che ieri, proprio ieri, segnalava per maggio un nuovo aumento dei tassi per il mese di maggio per i nuovi contratti di mutuo. Tutto questo non poteva non avere conseguenze sul mercato immobiliare e non potrà non averne di ulteriori. E poi gli effetti, come diceva Luca Dondi, sono anche sulle locazioni, ma rimanendo alla compravendita immobiliare io credo si debba porre l'attenzione su un elemento che può aggravare ulteriormente questi dati se non sarà posto un freno. Io sono abbastanza fissato su questo tema, non sono solo io, oggi c'è una copertina di Panorama in uscita stamattina che a proposito della direttiva, proposta di direttiva Casegrin, cosiddetta, a questa mi riferisco, parla di euro es proprio verde. I termini che si possono usare sono diversi, io credo però che già oggi sul mercato immobiliare ci sia un effetto di una proposta di direttiva, cioè di un testo che non è ancora vigente né in Europa, figuriamoci in Italia che avrebbe bisogno della trasposizione in un decreto legislativo di ricepimento. Ma gli effetti sul mercato, il mercato non ragiona con le gazzette ufficiali né col bollettino della Commissione Europea, ragiona con le sensazioni e io credo che già ora quella direttiva, pur non essendo in vigore, ha effetti sul mercato immobiliare perché come minimo sposta in avanti alcune trattative, perché è evidente che qualsiasi acquirente di un immobile, la stragrande maggioranza in classe energetica bassa, chiederà, chiede, sta chiedendo, ha chiesto al proprietario di ridurre le proprie pretese ed è evidente che poi questo effetto si riverbera sul totale, sulla totalità degli immobili, senza salvare troppo quelli di classe A, secondo me con una riduzione del valore. Quindi il mercato immobiliare, a mio avviso, ha prospettive davvero molto negative. Diceva Luca Dondi gli effetti sono sul mercato degli affitti, ma il problema è che poi i nodi vengono al pettine e sul mercato degli affitti certo c'è un effetto perché devono arrivare, arrivano a questo mercato soggetti diversi dai soliti. Quindi in Italia tradizionalmente lo sappiamo e ce ne lamentiamo un po', ci sono state tante ricerche da questo punto di vista, l'allocazione è vista solo come ancora di salvezza per chi non riesce ad acquistare, vorremmo tutti che fosse un mercato diverso, una possibilità di scelta soprattutto per chi deve lavorare in posti diversi e deve muoversi e si deve favorire la mobilità sul territorio. Ma sappiamo che l'allocazione per ora in Italia è stato questo e lo sarà ancora di più con chi arriverà, il ceto medio, ex medio, non so come definirlo, che si trova in difficoltà. E però, dicevo, i nodi vengono al pettine perché l'allocazione va tutelata, l'allocazione va tutelata sul piano delle garanzie di rientro in possesso dell'immobile al termine dell'allocazione stessa o in caso di morosità, non a caso i grandi operatori, mi si smentisca se non è vero, rifuggono ancora molto da questo tipo di utilizzo dell'or immobile e va garantita e va incentivata sul piano delle politiche fiscali, cosa che per le persone fisiche è certamente avvenuta a partire dal 2011 con la cedulare secca sugli affitti, però messa ogni giorno in discussione. I nodi vengono al pettine perché poi le persone agiscono come sul mercato della compravendita, agiscono anche sul mercato degli affitti e quindi non si può affrontare il tema, per esempio, anche qui richiamo quello che diceva Luca Dondi, delle locazioni brevi con l'ottica che sta avendo attualmente il Ministro del Turismo e cioè, il Ministro del Turismo spinta da alcune categorie e da alcuni sindaci, cioè vietiamo qualcosa che non ci piace. È una logica sbagliata ma soprattutto inefficace. Io ho ragioni e naturalmente noi abbiamo come Associazione della Proprietà Immobiliare ragioni di principio nel dire al Governo non va vietato una modalità di utilizzo degli immobili che rientra nell'esplicazione del diritto di proprietà, ma anche per chi non ha a cuore il diritto di proprietà. Insomma, il buonsenso ci spinge a dire che non è con i divieti facilmente, peraltro aggirabili, che si può affrontare un tema, ma eventualmente con gli incentivi. Quindi se io voglio che ci sia più locazione lunga, parlo molto semplice, chiaro e forse anche troppo semplice, devo incentivare la locazione lunga, non devo punire la locazione breve. È un tema enorme soprattutto per quello che leggevamo con riferimento al nuovo accesso all'immobile in locazione da parte di chi prima non vedeva questo tipo di mercato. Quindi lo diremo, lo continueremo a dire al Governo tutela maggiore della proprietà perché si fugge dal contratto di locazione lunga perché si ha paura di quello che avviene al termine del contratto o in caso di morosità e incentivi fiscali il più possibile sicuri. Ricordiamo, a proposito della tutela, che i proprietari italiani, persone fisiche o società arrivano anche da due anni di blocco degli sfratti. È facile parlarne come titolo collegato alle tutele in quel caso della post-pandemia, anzi durante la pandemia, in altri casi potranno essere in relazione ad altre emergenze, ma anche lì le cose poi finiscono sulla testa, sulla pelle e sulla carne delle persone e se io vedo un mio diritto negato per due anni fuggo da quel tipo di utilizzo dell'immobile. Scappo via e prima di far tornare le persone a quel tipo di utilizzo ce ne vuole un po'. Chiudo con il contenuto che volevo dare a questo intervento ma ci tengo particolarmente, quindi anche se magari i secondi sono ormai pochi, lo voglio dire, c'è un tema legato alle locazioni commerciali e alle locazioni non abitative. Io credo che anche l'aspetto dell'inflazione sia un nuovo stimolo a fare quello che andrebbe fatto e che andava fatto da ormai molti anni, cioè cambiare la normativa in particolare sull'allocazione d'uso diverso dall'abitativo che risale ancora al 1978. Perché lo dico con riferimento all'inflazione? Perché naturalmente dopo anni e anni di inflazione quasi zero, in cui i contratti avevano, diciamocelo chiaramente, lo stesso canone all'inizio del contratto stesso e dodici o addirittura diciotto anni dopo, salvo accorgimenti di altro tipo, alcuni sicuri, altri meno sicuri, di variazione del canone durante il contratto, dopo un periodo enorme in cui questo accadeva, al primo accenno di aumento dell'inflazione abbiamo dovuto assistere ad organizzazioni di tutela di grandi soggetti esercenti catene di negozi esercenti che chiedevano al governo, non a carico dello Stato, ma a carico dei proprietari, di stoppare gli effetti dell'inflazione. Allora, per non arrivare a questi atteggiamenti che sono puramente egoistici e di spostamento sugli altri di problemi propri, ma che poi sono problemi comuni, io dico facciamo quello che è stato fatto nel 2014 limitatamente alle locazioni con canone anno superiore a 250 mila euro, quindi derogabilità totale della legge 392 del 78 con i suoi vincoli in termini di durata, in termini di garanzie eccessive a mio avviso per il conduttore, ma garanzie diciamo sulla carta, nel senso che per il conduttore esistente sono tali, ma per il conduttore avvenire non lo sono, è più difficile entrare in un mercato e favorire appunto l'incrocio fra domanda e offerta. Chiudo leggendo quello che scriveva il governo nel 2014 quando ha fatto diventare legge quella norma di deroga, diceva il governo che bisognava valorizzare l'autonomia privata e di questo sto parlando, diceva che la disciplina che risale al 78 continua a presentare rilevanti elementi di rigidità che non hanno pari nei principali paesi europei, l'evoluzione del sistema economico ha portato a constatare come le originarie esigenze di tutela che vedevano aprioristicamente nel conduttore il virgolette contraente debole e risultino largamente superate. La disciplina attuale vincolistica limita le libertà delle parti di regolare liberamente il rapporto, predeterminando in molti elementi essenziali il rapporto stesso e creando rigidità che rendono meno appetibili gli investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri costituiscono un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e dell'immobile ad uso turistico. Questo è stato scritto nella relazione che accompagnava il provvedimento nel 2014 che era un po' stimolata da Confedilizia, ma Confedilizia l'aveva stimolata per tutte le locazioni, poi una manina come si usava a dire un tempo l'ha limitata a una parte molto ristretta delle locazioni. Quindi colgo questa occasione chiudendo per rilanciare la nostra proposta di finalmente liberalizzare le locazioni d'uso diverso dall'abitativo a beneficio non dei proprietari ma di entrambe le parti contrattuali e dell'intera economia. Grazie.